Simone l'editore presenta ebooks italia live vi ringrazio perché come avevo richiesto state cominciando a scrivere delle e-mail per chiedere informazioni all'indirizzo ed.simonell.com e le e-mail che sono giunte questa settimana sono soprattutto e-mail di richieste di conforto per quanto riguarda tutte le modalità di acquisto degli e-book su ebooksitalia.com sono e-mail che provengono da lettori un po' più avanti negli anni quelli che hanno meno naturale dimestichezza con le cosiddette nuove tecnologie però sono delle sincere ammissioni di timori nell'effettuare degli acquisti online cosa che per molti è diventata già una cosa naturalissima due click, inserimento dei dati di una carta di credito e il gioco è fatto però ci sono molti che temono chissà quali problemi anche perché parlando delle operazioni online ovviamente si parla anche di troppi furbetti che girano nella rete ma dentro ebooksitalia.com non dovete avere alcun timore perché quando effettuate l'acquisto non siete dentro il sito di e-booksitalia ma siete dentro la realtà molto protetta di un sistema bancario per cui per acquistare un e-book su ebooksitalia.com è molto semplice scegliete, andate nella pagina dell'e-book che voi preferite acquistare fate click nell'apposito pulsante per iniziare la procedura di acquisto vi ritroverete in una prima pagina che vi chiede la conferma che volete andare ad acquistare quell'e-book dopodiché vi ritroverete in un'altra pagina in cui vi si chiedono informazioni di base per poter poi da parte di e-booksitalia emettere la regolare fattura che è la ricevuta dell'acquisto dell'e-book con informazioni di base molto essenziali naturalmente si chiede il codice fiscale nome, cognome, indirizzo e poi c'è la linea con scritto pagamento di default, cioè già impostato è che il pagamento avvenga con carta di credito e in quel caso andando avanti dovrete inserire i dati della vostra carta di credito vengono accettate soltanto due tipi di carte di credito su e-booksitalia.com Mastercard e Visa però non volete usare la vostra carta di credito allora selezionate l'opzione bonifico bancario in questo caso andando avanti voi riceverete immediatamente una e-mail con quelle che sono le coordinate bancarie per effettuare il pagamento per e-booksitalia cioè riceverete un'e-mail con l'Iban che voi dovete indicare per effettuare il pagamento in questo caso potrete scaricare l'e-book che avete acquistato soltanto dopo che avrete seguito le istruzioni cioè dopo che avrete seguito le indicazioni che sono scritte nella e-mail per comunicare l'avvenuto e verificare l'avvenuto vostro pagamento ma in questa pagina dove mettete i vostri dati scegliete le modalità di pagamento eccetera eccetera ci sono anche delle modalità molto interessanti cioè c'è una modalità che vi consente di poter regalare l'e-book a qualche vostro amico, parente, innamorato o innamorata ed è una modalità molto semplice perché troverete una riga in cui vi si chiede è un regalo, sì o no nel caso in cui voi indicate sì dovete semplicemente mettere l'indirizzo di e-mail della persona alla quale è destinato questo regalo questo regalo di un e-book e poi procedere il che cosa vorrà dire? vorrà dire che quando voi avrete acquistato l'e-book chi è il destinatario del vostro regalo riceverà un'e-mail che avrà questo titolo ti hanno regalato un e-book e potrà avere oltre al link per scaricare l'e-book che avete regalato potrà avere anche un vostro messaggio di saluto, di augurio eccetera eccetera che potete e avete lo spazio per scrivere quando nell'apposita scheda in cui fate l'ordine avrete indicato auguri ti mando questo e-book perché lo trovo molto interessante o tutto quello che volete scrivere al destinatario del vostro e-book fatto compilata questa questa diciamo cartella d'ordine cliccando vi ritroverete indirizzati nel caso in cui pagate con la carta di credito e dentro dentro una una realtà bancaria e dentro la protezione della realtà bancaria non dovrete fare altro che seguire le istruzioni che sono quelle di inserire i dati della vostra carta di credito che può essere soltanto visa o mastercard fatto questo e fatto il click che vi viene richiesto per definire il vostro ordine il gioco è fatto vi giunge per e-mail tutta la informativa necessaria per poter con un click un attimo dopo scaricare sul vostro computer l'e-book che avete acquistato tutto molto molto semplice è molto più lungo spiegarlo ed è molto più semplice farlo dentro e-booksitalia.com come vi ho detto la scorsa settimana credo degli e-book di Simonelli Editore ce ne sono a questo punto ben 1090 è un bel numero di offerte di lettura che offre Simonelli Editore in e-book e lo ripeto ancora una volta sono per il 99,9% e-book originali ovvero opere pubblicate in digitale e che non sono la copia in digitale di libri che voi potete trovare in qualsiasi libreria di alcuni di questi vista la richiesta degli affezionati assolutamente all'uso della carta potete avere anche una una versione stampata on demand appositamente per voi on demand che cosa vuol dire una stampa su richiesta vuol dire che di quegli e-book dove vedete che c'è questa possibilità voi ordinate la cosiddetta copia ex libris una copia in volume stampata su carta normalmente un volume vero e proprio in brossura con la copertina a quattro colori plastificata lucida o opaca in ogni modo un libro tale e quale a quelli che voi trovate in tutte le librerie con la differenza che non fa parte di una tiratura di varie copie di quell'opera ma quell'opera viene stampata esclusivamente per voi e naturalmente questa versione in volume stampata esclusivamente per voi avrà un prezzo molto più alto rispetto a quello che è l'e-book e questa copia che noi abbiamo ribattezzato ex libris vi giunge a casa per posta una quindicina venti giorni dal momento stesso in cui voi avete fatto e pagato l'ordine da tenere presente che questo ordine deve essere pagato in anticipo perché l'automatismo di tutta questa operazione la fa partire soltanto nel momento stesso in cui giunge il pagamento dell'ordine che va direttamente allo stampatore questa versione di un e-book stampata in volume on demand esclusivamente per chi la ordina la potete ottenere sia attraverso ebooksitalia.com ma progressivamente stiamo trasferendo questa opportunità su Amazon perché diversamente da ebooksitalia.com attraverso Amazon la versione on demand di un e-book stampato in volume esclusivamente per voi la si può ordinare non soltanto dall'Italia ma da qualsiasi altra parte nel mondo per cui stiamo progressivamente trasferendo questa opzione su Amazon in maniera tale da poter coprire soddisfare le richieste non soltanto dall'Italia ma da tutto il mondo di chi vuole l'e-book stampato in una copia in volume su richiesta esclusivamente per lui tenete comunque presente che su e-books Italia trovate dei collegamenti diretti con tante realtà tecnologiche per la lettura degli e-book mi spiego meglio in tutte le schede relative agli e-book di Simonelli editore troverete dei pulsanti con scritto iTunes Amazon Google Play Kobo benissimo cliccando su questi pulsanti andrete direttamente sulle pagine di Google Play di Kobo di iTunes di Amazon eccetera per acquistare quell'e-book cioè nelle schede degli e-book Simonelli editore su e-books Italia avete varie possibilità avete naturalmente la possibilità di acquistare l'e-book direttamente su e-books Italia seguendo la procedura che vi ho appena raccontato e spiegato dettagliatamente ma se desiderate avere la possibilità di acquistare l'e-book su Amazon su Kobo su Google Play su iTunes perché avete il vostro apparecchio di lettura più adatto a queste altre piattaforme di distribuzione e vendita no problem voi dalla pagina di e-books Italia di quegli e-book cliccando semplicemente su quel pulsante sarete subito rimandati alla pagina dello stesso e-book sulle varie piattaforme indicate insomma e-books Italia poi offre la possibilità di trovare talvolta al piede delle schede dei vari e-book anche dei video dei video che sono o delle interviste con l'autore di quegli e-book o degli incontri relativi agli e-book di Simonelli editore insomma dei video che possono essere molto molto utili per quanto riguarda quello che è il catalogo degli e-book cominciamo a percorrerlo con una premessa anche questa di carattere generale si può fare editoria anche digitale in due maniere o focalizzarci su di una certa tematica o in un certo ambito e produrre e-book su quella tematica e nell'ambito di quel racconto per così dire tra virgolette oppure si può percorrere la strada della varia che è come si dice da un punto di vista editoriale ovvero pubblicare vari generi partire dalla narrativa dalle raccolte di racconti partire dai i saggi di varia umanità partire dagli e-book che sono quelli che gli americani chiamano gli out come fare qualche cosa per risolvere dei problemi ed arrivare anche a quegli e-book sui quali noi di Simonelli Editore stiamo sperimentando da tempo che vi offrono degli e-book che hanno incorporato dentro anche dei video e degli audio oltre a un testo da leggere oltre a delle fotografie da ammirare Simonelli Editore ambiziosamente qualcuno che non è nostro amico dice presuntuosamente in ogni modo sin dall'inizio ha percorso la strada di una linea di editoriale focalizzata sulla varia quindi pubblichiamo opere di narrativa di saggistica manualistica di varia umanità autù come stavo spiegando prima e arrivando anche a dei libri dedicati soprattutto alla lettura dei ragazzi e anche da leggere ai bambini più piccoli quindi ci siamo posti un orizzonte molto ambizioso ma nel catalogo Simonelli Editore non si dimentica la memoria di quelli che sono i classici della letteratura per cui a costi veramente molto bassi pensate a 49 centesimi di euro quelli che vogliono avere tutti i romanzi di Emilio Salgari che per molti sono state le prime letture della loro infanzia per altri sono un ricordo di belle letture per altri sono delle letture che meritano di essere scoperte benissimo Simonelli Editore ha prodotto dopo una revisione anche letterale per aggiornare un po' il linguaggio a quello dei nostri giorni in ogni modo ripropone tutti i romanzi di Emilio Salgari in versione ebook da scaricare velocemente sul proprio ebook reader sul proprio tablet sul proprio anche smartphone e portare sempre con sé ciascuno è messo in vendita proprio al costo di produzione 0,49 centesimi di euro mezzo euro per ogni romanzo di Emilio Salgari queste operazioni a marcord diciamo di recupero dei testi dei testi che non si possono dimenticare o che si dovrebbero conoscere è un film rouge che segue Simonelli editore che poi ne scopriremo altri di esempi di questo tipo ma parliamo da quella che è la narrativa e cominciamo ad esaminare quelli che sono gli autori della narrativa che Simonelli editore propone in digitale e qui nel catalogo di Simonelli editore c'è un'autrice che ha riversato e noi abbiamo accettato di pubblicare con molta gioia molte ma molte opere di narrativa sto parlando di Maria Santini una scrittrice molto molto brava come e brava anche come divulgatrice perché ha scritto anche molte altre opere di cui poi parleremo ma per ora focalizziamoci esclusivamente sulla narrativa Maria Santini è una di quelle scrittrici che ama molto il giallo e lei lo ama ante litteram oggi è di moda scrivere gialli dovunque ti giri c'è sempre qualcuno che esordisce o che insiste nella scrittura di gialli Maria Santini sin dagli diciamo dalla fine degli anni 90 ci ha regalato tutta una serie di gialli che noi abbiamo messo nella collana i gialli di Maria Santini che sono vado a memoria ma sono a questo punto un 13 gialli e che sono non i gialli diciamo all'americana di quei gialli in cui ci sono un sacco di morti ammazzati ci sono scene truculente eccetera eccetera ma sono quei gialli diciamo soft quei gialli alla Agatha Christie in cui il ruolo principale ce l'ha la riflessione la deduzione l'intelligenza sono dei gialli molto avvincenti e che sono che l'hanno fatta definire Maria Santini dalla critica l'Agatha Christie italiana benissimo con Maria Santini avete già 12 occasioni di letture di gialli però in un in un periodo un po' strano che stiamo vivendo da quando sono scoppiate le pandemie da quando ci sono dei rivoluzionamenti nel terzo millennio Maria Santini proprio pochi mesi fa ci ha regalato un nuovo romanzo che non è affatto nella linea dei suoi tradizionali gialli ma passa alla fantapolitica e immagina una Italia ahimè vittima di strane dittature vittima di una realtà molto futuribile e speriamo che non si verifichi mai ma raccontando quella realtà mette anche in evidenza tante falle e tante incertezze che ci possono essere anche nella nostra realtà quotidiana questo libro questo romanzo di fantapolitica di Maria Santini si intitola Alba Chiara andate a trovarlo lo trovate come al solito su ebooksitalia.com però contemporaneamente lo trovate su iTunes su Amazon su Google Play su Kobo e poi non so se lo sapete Kobo cura per quanto riguarda gli ebook anche le piattaforme di Mondadori e Feltrinelli per cui trovate Alba Chiara come tutti gli altri ebook di Simonelli Editore anche sulle piattaforme di Mondadori e Feltrinelli ma le opere in ebook di Maria Santini non si fermano qui ce ne sono molte molte davvero molte altre nell'ambito della saggistica nell'ambito delle biografie ma di questo parleremo nel prossimo podcast di 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 Grazie a tutti.